Ecco i risultati della quindicesima giornata di andata del campionato di basket a Serie C. Ruvo batte Monopoli 99 a 63, Daimon Voggia, Juve Trani 74 a 66, Webin, Manfredonia, Olimpica Basket 101 a 95 dopo due tempi supplementari. La classica Nardò e Vieste a quota 26, Daimon Voggia a quota 24, Allianz, Udas, Webin, Manfredonia e Altamura a quota 20, Juve Trani 16, Castellaneta 14, Ostuni, Olimpica Basket ed Andrea Bari a quota 12.